Ok giornali, buongiorno, ben ritrovati a tutti cari telespettatori di FanoTV, benvenuti. Tra poco vedremo subito i quotidiani, il Carlino, il Corriere, il Messaggero, ma come sempre cominciamo dal Santo del Giorno. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda l'antività di San Giovanni Battista, il sole è sorto alle 5.26, tramonterà le 20.55. Questa è l'animazione del satellite Sat24.co che ci mostra cosa è successo nelle ultime ore e quindi si capisce come la costa in particolare sia stata risparmiata, in particolare dalle nuvole e da quella pioggia intensa che invece ha colpito più l'entroterra. Ecco, si capisce guardando bene l'animazione del satellite. Questa è intanto la fotografia delle 7.30 del mattino con temperatura di 18 gradi che ovviamente è destinata a salire. Vediamo dunque che cosa ci attende per oggi, mercoledì 24 giugno, avremo un cielo che sarà inizialmente nuvoloso ma poi questa nuvolosità, già lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto anche dalla fotografia, questa nuvolosità diminuirà dalla tarda mattinata per poi lasciare spazio al bel tempo che avremo anche nella giornata di domani e nella giornata di venerdì con temperatura in ulteriore lieve aumento. Il giornale, allora i giornali cominciamo dalla pagina di Fano, spiaggia dei cani, la grande incompiuta, due bandi e tre ricorsi al Tar, manca perfino la rete di recinzione, stiamo parlando di una spiaggia dei cani, quella che si trova a nord di Fano, è un progetto da mutare, c'era anche una piscina per i quadrupedi, l'Asur ha voluto cambiare. Poi sulla pagina 2 del Carlino di Fano, multe, aset edilizia, il bilancio fa acqua, la minoranza, i revisori dei conti mettono in imbarazzo la giunta, l'ira del sindaco Seri, replica l'assessore, l'alternativa sarebbe stata la chiusura di alcuni servizi, tributi non aumentati. Poi l'attacco grillino alla fondazione Carifano, troppe anomalie. Galli Academy Camp, il laboratorio del volley che porta tanto turismo, c'è questa festa della Pallavolo per ragazze da tutta Italia, Giuseppe Davide Galli che ha origini pergolesi, attualmente è in quota nello staff della Nazionale Femminile di Pallavolo, è infatti l'anima di questo camp che si svolgerà tra Stacciola di San Costanzo e Fano dal 21 al 27 giugno, un vero e proprio laboratorio, ma anche una festa, un'occasione per divertirsi e socializzare e ci sono appunto una settimana di alta specializzazione per 24 ragazze, nate tra il 97 e il 2005. Poi manca l'ambulanza, botto rinviato a Isola del Piano, le bombe erano spuntate da una frana, gli artificieri non possono far brillare due residui bellici, in totale 60 kg di tritolo. In caso di esplosione l'onda d'urto sarebbe di 400 metri e le schegge finirebbero a 1.300. Poi a Fossombrone si discute ancora sulla cittadinanza onoraria Benito Mussolini, Zanchetti dice che è inutile perdere tempo sul caso Benito Mussolini, sono altri i problemi di Fossombrone, così la pensa appunto Alex Zanchetti sulla revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini, buttata dal Consiglio Comunale nell'ultima seduta. Poi andiamo a Pesero, Bettini, ironico, Ricci, il sindaco è l'uomo della pioggia, sole assicurato, sta a vedere che adesso pioverà come mai era accaduto. L'accordo scatena commenti sui social network e il Conte Pinoli ci scrive resto contrario. Poi sulla provincia piccole vendite immobiliari, provincia in cassa spiccioli per due capanni ed un terreno. La Guardia di Finanza, il bilancio di questi primi mesi del 2015, attacco ai laboratori cinesi illegali per scongiurare la deriva pratese, indagini fiamme gialle, filiera regolare ma non pagavano le imposte. Ma nel mirino della Guardia di Finanza anche le pompe di benzina che fanno la cresta e non solo. Poi come vedremo controlli anche in altri settori. Poi andiamo sul Corriere Adriatico. Elisabetta Foschi sarà presidente del Consiglio del Comune di Urbino. Il sindaco Gambini trova la quadra, Guidi eredita le deleghe di Ciampi ma con i Verdi è Maretta. Sgarbi Severo, scelta inopportuna, dice questo colpo di coda meriterebbe una lettera in procura. La pagina di Fano. Troppe incertezze e conti a rischio. Le opposizioni rilanciano i dubbi dei revisori dei conti sulle multe e gli utili di Aset. Il voto è stato rinviato. La discussione in Consiglio spostata da oggi a lunedì prossimo. Le minoranze unite contro la ritardata fusione. Minardi dice noi abbiamo deciso lo slittamento di questa data. La relazione dei controllori è arrivata solo lunedì sera. Parla l'assessore Cecchetelli. Siamo un comune virtuoso. Abbiamo garantito i servizi. Criticità di gestione. Pressing sul sindaco. Il Movimento 5 Stelle di Fano interroga su designati e linea del comune. Requisitore su investimenti ed erogazione dell'ente. Poi a Marotta. Passaggio a livello. Appello al prefetto. Il comitato attraverso Marotta chiede a Pizzi di verificare la sicurezza delle opere sostitutive. Il presidente del comitato Petroni. Vogliamo incontrare il prefetto per esporre questioni riguardanti la pubblica incolumità. Poi ancora dalla Corriere. Premiati a Serungarina. Premiati i bambini soci della cooperativa di Tavernelle. La cerimonia si è svolta al Teatro Musee di Ancona. I riconoscimenti ai ragazzi delle terze A e B consegnati dalla B.C. delle Marche. La pagina di Senigallia. Squadra pronta. Quella di Mangialardi. Deleghe a Beccacechi e Fileri. E sempre da Senigallia. Ladri acrobati. Svaliggiano due negozi. Sono due negozi di telefonini. Ma chi ricorda la rassegna stampa di ieri avrà sicuramente in mente che probabilmente la stessa banda che ha compiuto questi ride al centro Comunichiamo, il centro Wind, lungo la Statale, probabilmente la stessa banda ha messo a segno altri colpi in due negozi di telefonini a Pesaro e uno a Fano. Quindi stanno andando giù verso sud. Con l'auto contro un albero grave un uomo a Montemarciano. Incidente alla Gabella. Il ferito è stato trasportato con l'elie ambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Dal messaggero di Pesaro, la pagina principale, Ceriscioli super governatore. Il presidente tiene per sé la delega alla sanità e al welfare. È un segnale alla comunità. Dice lui ci metto la faccia e sui sciapichetti è stato scelto a furor di popolo. Ieri prima riunione di giunta. Poi qui sopra in alto vedete questa veste rovinata perché ha qualche centinaio d'anni. È la veste che appartiene alla patrona dei non vedenti che è esposta a mercatello sul Metauro. Entriamo nelle pagine interne del messaggero. Ceriscioli accentra tutto. Si tiene sanità e welfare. È stata presentata la nuova giunta regionale. Gestirà direttamente il 90% dei fondi a bilancio. A sciapichetti solo ambiente e trasporti. Alla professoressa Bravi del Monte Feltro. Le grandi crisi industriali. E il messaggero pubblica con una scheda anche le foto e relative deleghe, ovviamente le più importanti, che sono state assegnate appunto a tre donne e a tre uomini. Il governatore, le mie deleghe pesanti, dice in una prima fase è giusto così, voglio metterci la faccia. Poi sotto invece il Partito Democratico sul gruppo Marcolini prepara l'imboscata, o meglio PD. Il gruppo Marcolini prepara l'imboscata a Comi. Accusa il segretario che ha negato la conferma all'ex assessore. Anche i vertici delle commissioni decise per il territorio. Verrebbe da discutere e da dire qualcosa su questo titolo. Prepara l'imboscata. Stiamo parlando di politica e guardate in che termini si parla di politica. Poi ci si domanda come mai c'è la disaffezione delle persone, anche dei giovani. Ma a leggere certi titoli, a leggere certe cose viene veramente il volto a stomaco. Comunque questo è. Laboratori cinesi nel mirino della finanza. La provincia di Pesaro non diventerà una nuova Prato. Controlli attivati nelle zone di Urbino, Fermignano e Fano. Il distretto finito sotto inchiesta è quello del Tessile, dove la concorrenza commerciale è agguerrita. Ma come dicevo, oltre ai distributori che fanno la cresta sulla benzina, la Guardia di Finanza tiene sotto controllo anche i falsi invali di finti poveri, benissimo, bravi, truffe, raffica di controlli e di denunce. Ancora, sole assicurato il nodo dei rimborsi. In caso di maltempo, secondo la convenzione firmata, il risarcimento ai turisti sarà a carico degli albergatori. Il fondo accantonato dal Comune di Pesaro servirà esclusivamente per integrare maggiormente la campagna promozionale. Domani l'addio a Luca Ugolini. Lo ricorderete, il noto ristoratore scomparso una settimana fa in un tragico incidente a bordo di uno scooter all'altezza dell'arco di Miralfiore. Bene, le esegui si terranno domani, giovedì 25 giugno, nel primo pomeriggio alle due e mezzo nella Chiesa dei Cappuccini. Questo pomeriggio invece alle 6, sempre nella Chiesa dei Cappuccini, si terrà la recita del Rosario. Poi sulla diatriba tra il Comune e la sovrintendenza, sulla Rocca Costanza, Barbanti, chiedevo il nulla osta a febbraio, mentre Bettini assicura, dico, ma io conosco la sovrintendenza, se ha scritto quella lettera vuol dire che il Comune ha tirato la corda. I tre nodi del bilancio, siamo sulla pagina di Fano del Messaggero, i tre nodi del bilancio comunale, sanzioni, aset e oneri di urbanizzazione, l'opposizione attacca forte anche del parere delle revisioni dei conti, il voto dei consiglieri slitta lunedì e la seduta si annuncia complessa. Ma replica il Presidente del Consiglio Minardi, abbiamo spostato la data per consentire ai partecipanti di prepararsi meglio. Dunque slitta lunedì prossimo il voto sul bilancio comunale 2015 e l'opposizione descrive scenari da caporetto per la maggioranza fanese di centro-sinistra. È un imbarazzo, un imbarazzo dopo il parere fornito dai revisori dei conti. Minardi dice nessun imbarazzo, la data della seduta è stata spostata come gesto di apertura verso i consiglieri di minoranza che così possono studiare le carte e possono prepararsi meglio. E i revisori parlano di imbarazzante numero di dirigenti in aset holding. Poi sotto videosorveglianza approvate le regole. Attenzione a chi si ostina a non fare la raccolta differenziata che abbiamo già detto tante volte, almeno a parere personale. È certamente una scocciatura e certamente rompe le scatole, sta lì tutti i minuti a cambiare, avere 40 buste di ogni... però queste sono le regole quindi vanno rispettate. C'è gente però che si ostina a fare un unico sacchetto e a buttare tutto così. E allora adesso nelle 300 isole ecologiche fanesi verranno posizionate o meglio ci saranno queste strutture mobili, queste telecamere che verranno spostate di volta in volta e che andranno a verificare in queste 300 isole ecologiche, ovviamente maggiore attenzione dove è più frequente l'abbandono dei rifiuti, andranno a vedere chi fa il furbetto, tra virgolette, ma poi qualcuno si arrabbia se vengono definiti furbetti, non sono furbi in effetti. Però le immagini poi saranno visionate dalla Polizia Municipale di Fano, cui spetterà di valutare le eventuali infrazioni e poi naturalmente sanzionarle. Questa è la notizia che troverete nel dettaglio sul messaggero alla pagina di Fano di oggi. Con questo chiudiamo la rassegna stampa, grazie per averci seguito, buona giornata, questa sera alle 20.30 come sempre il nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci. Grazie.